Proprio di inquadrare il fenomeno, perché nella NIC, io mi ricordo che una volta ci cercavano un'associazione di proprietari immobiliari di Berlino, che volevano il nostro aiuto contro la municipalità che aveva adottato politica di edilizia residenziale pubblica poco idonee, insomma a un certo momento mi chiedo quanti siete, siamo 60, io ne rappresento 60 persone, e in 60 quanti immobili avete? 700, noi siamo qua per combattere voi, è vero è vero si è messo a ridere